Ehi la ciurma, qui Mazzetess Siamo pronti per un nuovo video di Maintest Oggi andremo a craftare un po' di strumenti Visto che l'altra volta, le altre due volte abbiamo costruito un po' No, la scorsa in realtà ho craftato tantissimo Però ho craftato quasi tutto off camera E oggi andremo a costruire un paio di strumenti utili Tutti della mod Technic Allora, innanzitutto, quello che potete vedere qua E' una chainsaw, cioè una motosega E ha un crafting abbastanza semplice Diciamo un electric motor, 3 stainless steel ingot e 2 re-battery più un copper ingot Allora, guardiamo solo un attimo l'electric motor come si craftava Perché io non mi ricordo mai Allora, dei copper coil che vengono fatti, se non sbaglio Con iron e quei dischetti di copper Fine copper wire, se non sbaglio, esatto E i fine copper wire sono fatti con 3 copper ingot Quindi per fare due di questi ho bisogno di 8 fine copper wire Quindi se per farne 2 ne ho bisogno di 3 12 lingotti Allora 9 ne ho Beh, a parte che se cuocessi anche quest'altro qua Credo che male non mi faccia Nel frattempo, mentre facciamo questo crafting Vi ripeto, se per caso qualcuno non l'avesse saputo Che questi ultimi video Li ho registrati praticamente tutti insieme Lo scorso, quello primo ancora, è questo Perché partirò per le vacanze In queste vacanze di Natale E non avendo la partner non posso programmare L'uscita dei video quando voglio Quindi ne caricherò Uno è già stato caricato Cioè questa notte L'altro verrà caricato appena prima delle vacanze E l'altro verrà caricato appena dopo le vacanze Cioè tipo Uno all'incirca il 16 E uno all'incirca il 30 Quindi più o meno ci sarà la copertura per tutte le settimane Allora Detto questo abbiamo bisogno anche di Iron Intanto invito chi per caso non l'avesse fatto Ed è ancora in tempo A andare a votare per la nuova serie E per il nuovo E per La partita con gli iscritti Se si vuole iscrivere Nel video numero 17 Quello del mining drill Ci sono i link, i commenti Tutti là Per iscriversi a questa partita E per votare la serie Che vorreste vedere sul canale Allora Intanto No La dust 3 iron dust E un chromium dust Qua ne ho un po' di chromium dust Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Facciamone un pochetto Così siamo sicuri Electric alloy furnace Non so se mi basta l'iron Però adesso vedremo Oh tra l'altro Che carino Non avevo notato che si accendeva là Che bellino Che bellino Allora Adesso facciamo 1, 2 Di sicuro ho sbagliato L'ordine Quindi sarà Così Difisso No Era al contrario Eh la la Questi qua E' sempre molto difficile Da ricordarsi Non so come uno E' portato sempre A sbagliarli Electric motor Vediamo Cosa ci serve Quelli più 6 steel ingot E un copper ingot Quindi ci siamo 1, 2 E 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yeeeh Chainsaw Mi sembra Che ci volessero Ancora 2 Rebatteri Esatto E per le rebatteri Abbiamo bisogno Di tin Copper E legno Quindi Allora Tin Abbiamo già Dei lingotti Perfetto Dobbiamo Craftare Un po' di legno C'è un po' di wooden planks Perché Ce n'è bisogno Di un sacco Per le rebatteri Perché la parete esterna Della batteria In pratica È fatta di Di legno E quindi Richiede un sacco di legno 1, 2 1, 2 1 Se non Mi ricordo male Ok Perfetto Adesso dovremo Cuocere I Stainless steel Ingot E un copper Intanto Andiamo a vedere L'altra cosa Che volevamo Creare oggi Che è La flashlight È una bellissima E comodissima torcia Tra l'altro Anche molto Utile Per girare Di notte E abbiamo bisogno Di due Stainless steel Ingot Che si stanno creando Un glass Ce l'abbiamo Due rubber Fiber Ce l'abbiamo Due rebatteri Di nuovo Quindi facciamo Facciamo di nuovo Un due 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 Uno E uno Due Poi prendiamo Allora il glass Che è qua Un chicco di glass Sì perché il glass Va in chicchi Se andate dal Dal commerciante Di glass Gli chiedete Un blocco No Non capisce Sono chicchi Chicchi di glass Come la grandi Ne avete presente Ecco così Proprio uguale Allora Inizio Facciamo la flashlight Che mi pare Abbiamo già Tutto prontissimo E poi È già sotto mano Allora Uno Due Tre Quattro Cinque E cos'è che c'è? Ah i due Stainless steel Perfetto Flashlight E la mettiamo A caricare Intanto Poi vi farò vedere Come funziona Uno strumento Abbastanza utile Anche se non mi ricordo Quanto sia la durata Cioè Potrebbe essere Che duri Poco Come Come Tempo di utilizzo Si scarichi In fretta Però Non me lo ricordo È un po' che non la uso In realtà La flashlight E anche la chainsaw È qua È viva Allora La flashlight È a posto E potremo Probarla Quando farà Buio Basta averla Nell'inventario Ecco Vedete Nell'inventario Rapido E illumina La zona Che stiamo Percorrendo La zona In cui siamo Questa può essere Molto comoda Nelle sessioni Di mining Anche perché Qua in Mine test Come sapete Bene Non è Non sono Presenti I mob E quindi Perché l'ho Detto con così Tanto spazio Non lo so Comunque Non sono Presenti I mob E dunque Certe volte È inutile L'illuminazione È solo Uno spreco Di carbone Si potrebbe Minare Tranquillamente Nell'oscurità Avendo una Flashlight Con sé E andiamo A provare Anche la Chainsaw A questo punto Andiamo Ad abbattere Qualche alberello Da queste parti Tipo Questo Ah perfetto Ma lo abbatte Tutto Bellissimo Però se proviamo Su questo Cosa succede Niente Infatti No Non lo riconosce Però per gli altri È molto Molto comoda È molto Molto comoda Perché è Velocissima Cioè con un Click Boom Giù l'albero Può essere Un utile Strumento Da tenere Con sé In effetti Magari Lo metteremo Non nel Nell'inventario Rapido Lo metteremo In uno Zainetto Magari Anche con Il Tree Tap Il Mining Drill Il Mining Laser Questa Roba qua Adesso Dobbiamo Vedere Un attimo Qua tra l'altro Si sta scaricando Un sacco Velocemente Carichiamo anche la torcia Già che ci siamo Si scarica Molto rapidamente Quando si Caricano Degli Strumenti L'affare Qua La batteria Detto Questo Possiamo Visto che abbiamo Ancora Dieci minuti E io ho Fatto Un Fottio Di minuti In Mining Potremo Upgradare Il nostro Mining Drill MK1 A MK2 E Vediamo Se c'è il tempo E se non ci annoiamo Troppo In MK3 Allora Innanzitutto Abbiamo bisogno Di tre Diamond Drill Head Il nostro Mining Drill MK1 Stainless Stainless E Un Green Energy Crystal Allora Innanzitutto Guardiamo Diamond Drill Head Diamond Drill Head Ah Quattro Stainless Steel E quattro Diamanti Andiamo a Nanna Nanna Oh Che sono Giorno Ehi Non capisco Come mai Ah ecco Boh Ci sono dei problemi Con il letto Ho problemi Di insonnia Molto gravi Perché poi Non Non dormo Come vedete Infatti Ho 45 Ben 45 Diamanti Che sono Uno strafottio E che come vedete Spariscono in frettissima Costruendo questi strumenti Ecco qua Uno Due E tre Bene Poi Forse In effetti Ci è comodo Usare Il trucchetto Che ci è stato consigliato Da un iscritto Di cui in realtà Mi ricordavo Già L'esistenza Però non l'avevo Sfruttato la scorsa Volta In effetti Che è quello Per cui Cercando Con il nome Della mod Appaiono Tutti gli strumenti Tutti gli oggetti Di quella mod E quindi Qua in particolare Abbiamo I mining drill E green energy crystal Ce l'abbiamo subito Qua È formato Da un red energy crystal Che è formato Da Un diamond block Che se non sbaglio È semplicemente Un blocco di diamanti Ok? Nove diamanti Quattro ore battery Due gold ingot Due red die Allora Due gold ingot Ce l'abbiamo No Però li facciamo subito Red die Ce l'abbiamo Poi suppongo Che se volessimo fare L'altro Avremo bisogno Di Ma La torcia Do togliermela Dall'inventario rapido Solo continua A scaricarsi E Le red battery Dicevo Allora Le red battery Quattro Ne abbiamo bisogno Sì Quindi Ho bisogno Di Legno Quello che ho appena Raccolto Con la chainsaw Haha Grazie Chainsaw Sì Lo so Ne ho messi Cinque Ma Vabbè È che è sempre Un po' Difficile Un, due, tre, quattro Ecco Due Tre E E quattro Stainless steel Ingot Ce li ho Devo prendere I due gold Ingot E I due red die Poi andiamo Craftiamo Il blocco di diamanti Un, due, tre Quattro Cinque, sei, sette Otto, nove E guardate Già solo da Quarantacinque Siamo scesi A ventiquattro Quindi abbiamo Speso Ventun diamanti Per Fare Questo Ragazzino qua Com'è che era? Ok Allora Uno Due Uno Due Uno Due 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 Quattro Due Ora abbiamo bisogno del red però Cioè del green Due green die Due gold ingot E quattro rebattere di nuovo Allora I red die I green die Scusate Si ottengono a partire dai cactus Se no ricordo male Quindi Sono già furbo Perché non abbiamo nessun cactus Con noi nell'inventario Cioè nell'inventario Neanche nelle ceste Da nessuna parte ce l'abbiamo Ah Qua c'è un fiore rosso E mi servirà Per fare le mk2 In effetti Andiamo Raccogliamo un po' di cactus Qua Perfetto Quattro pezzi Sono l'ideale E questo Non mi ricordo Se c'è già questo fiore Ma mi pare che quel fiore Mi servirà poi per le mk3 Perché c'è da fare Il blue energy crystal Allora adesso abbiamo Quello Grindiamo un cactus Ok Poi Cosa ci serve Quattro ore battery Due gold ingot Perché vado sempre Dalla parte sbagliata Due gold ingot Quattro ore battery Abbiamo senza legno Per quattro ore battery Non lo so Due tre quattro Un 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 due tre quattro Tra l'altro Ho fatto degli esperimenti In questi ultimi video E Dovrei essere riuscito A caricare I video Ad una qualità superiore Cioè fino a 720p Non ne sono sicuro E Non sono Certo Di come siano venuti I video Perché non ho ancora avuto La possibilità Di Vederli E quindi Se per caso Non fossero venuti Particolarmente bene Mi scuso Già in anticipo Però Teoricamente Dovrebbero essere venuti Migliori Dei precedenti Perché potete guardarle Anche a una qualità maggiore Che rende Migliore Diciamo La visione A schermo intero Speriamo Perché comunque Mi sono fatto Un po' Uno sbatti Per riuscire A registrare In 720p E speriamo Che sia apprezzato Se non altro Allora Qua abbiamo bisogno Di due stainless steel E il nostro Mining drill Tra l'altro No Io spero Che me lo prenda Nel crafting Anche se è già stato Sfruttato Perché se per caso Non me lo prende Voi sapete Che sono guai Eh Ah Per fortuna Perché a doverlo Ricraftare da capo C'è che barba A questo punto Abbiamo il nostro Mining drill MK2 Bzi bzi Andiamo subito A provarlo E credo che per questo episodio Sarà tutto Dopo la prova Del nostro Mining drill Perché Sì Perché cioè Nel senso Sono già passati 18 minuti Io Sono anche Moltissimo Stanco Vorrei anche Andare A scuola No nel senso Non è che voglio andare a scuola Nel senso che Devo andare a scuola Come voi tutti Questo Mi ricordo C'era anche in questo La modalità Che switch Cos'è Ah ma non l'ho caricato E voi non me l'avete Anche detto Che furbo Che furbo Che furbo Andiamo Comunque con le foglie Non stanno cadendo Perché Allora andiamo a caricare Questo mining drill Ah la torcia è qua Perché mi dice uno Ah In modalità uno Ecco Infatti qua si cambiano Le modalità Ma non mi ricordo In base a che cosa Cioè Perché Mannaggia Guardate quanto cavolo Si sta scaricando in fretta E questo qua Sta caricando lentissimissimamente C'è un ciuccio di energia Assurdo Ma Carica Non carica E una misè Avremo bisogno Di sicuro di Una batbox Più grande C'è più Batbox Guardate Vabbè Andiamo a provarlo così Però Ehi Mannaggia Potrebbe essere L'occasione Per Upgradare La mod Visto che Questa versione Della mod È molto Molto Vecchia E Più che altro È stato un po' Lo sbatti Perché aggiornando La tecnica Dovevo aggiornare Anche tutte le mod Che sono Modalità Uno E come la cambi La modalità Scusa Non mi ricordo più Scusate Vado a fare Una piccola ricerca Sul Come si cambia La modalità Niente ragazzi Sono andato a cercare Un po' Ma non ho ancora Trovato nulla Quindi vi aggiornerò La prossima volta Nel prossimo episodio Dicendovi appunto Come si Cambia La modalità E vi farò vedere Il mining drill Nel frattempo Lo carico Così si Si vede un attimo Perché L'hai passato uno Ma Non so come Non mi ricordo più Assolutamente Nel frattempo Il mio tempo È scaduto Quindi io vi saluto Ciao